Ci eravamo detti, in macchina no. Se ti arriva una notifica, guardala quando ti fermi. Ma non era l'ultima? Non prendere il volante dopo aver bevuto. Meno male che dovevi tornare presto. È meglio che ti fai una dormita prima di mettere in moto. In estate, sulle strade del Veneto, una persona al giorno perde la vita. Se hai bevuto, se sei stanco, se usi il telefono. Non guidare. Fai una pausa. Non rischiare quando guidi. Una campagna di Regione Veneto e Vivo Bene Veneto. Grazie.